Grazie Presidente, brevemente. Allora, prima di tutto io vorrei dire che siamo costantemente, soprattutto l'assessora Gatta, e anch'io sempre in contatto sia con gli assessori municipali che con i presidenti di Commissione Lavori Pubblici Municipali. E quindi sappiamo benissimo ciò che serve sui territori, ne parliamo, anche questo infatti è frutto delle somme che sono scaturite con l'ultima variazione di bilancio, quindi non è che serva una mozione per far comprendere cosa ci voglia. I municipi lo sanno e anzi io devo dire che andando a piedi in bicicletta, perché forse chiusi dentro la macchinetta non si vedono molte cose, ho notato invece che ci sono molte strisce pedonali fatte, ricordo, a seconda delle strade, se sono grande viabilità o municipale, realizzate dal Dipartimento Simu o dai vari municipi. Quindi i lavori su questi c'è stato tempo di fare le gare che ora sono moltissime in corso, proprio di segnaletica, e proprio per questo si stanno vedendo con sempre proprio ogni giorno sempre di più strisce rifatte. Grazie.